Mamma, ma io quando sono nata, com'ero? Ah, tua sorella era di una bellezza. Sì mamma, ho capito, mi hai detto più volte. Ma dico, io quando sono nata, com'ero? Considera che i vicini per vedere tua sorella si facevano le scale due volte al giorno. Sì mamma, ma io com'ero? Senza occhiali. Ma i vicini mi venivano a vedere? No, Gioia, con tutte quelle scale. Io sono nata il 23 novembre, in un giorno di sole, a Palermo, perché a Palermo anche a novembre c'è il sole, e sono nata in casa. Infatti a me non mi piace uscire, ma io oggi ho fatto proprio un'eccezione per voi, guarda. Ma io sono nata in casa perché mio padre era medico, mio fratello è medico, mia sorella è medico, io sono ipocondriaca, di canzone. Io sono l'unica laureata in filosofia, però quando telefonava qualche paziente, le ricette gliele davo io. insomma, mal di pancia, acqua e alloro, pressione bassa, acqua e sale, infarto, acqua santa.